16 arresti di cui 5 ai domiciliari, 34 indagati e un totale di 2 kg di cocaina purissima che sul mercato avrebbe avuto valore di circa un milione di euro. E il bilancio dell'operazione Arusha che ha portato alla luce un traffico di droga che partiva dall'Albania, transitava per Padova e Rimini fino ad arrivare nel Frentano a Rocca San Giovanni dove veniva nascosta in un bosco prima di essere smerciata. Il blitz degli 80 uomini della squadra mobile di Chieti e dei commissariati di Lanciano e Vasto è scattato all'alba di questa mattina coadiuvato da un elicottero e dalle unità cinofile di Pescara e Dancona ed ha permesso di rinverire anche una serra con una mini piantagione di marijuana, anche questa destinata allo spaccio locale. Con questa indagine la procura di Lanciano e la polizia hanno sgominato una ramificata organizzazione criminale composta principalmente da albanesi ma anche da italiani nella quale un ruolo centrale era rivestito da tre donne, un'albanese e due italiane che avevano il compito di organizzare lo spaccio ed individuare i clienti. Come ha spiegato il procuratore di Lanciano facente funzione Rosaria Vecchi, il traffico di stupefacenti ad alta potenzialità lesiva viaggiava su gomma in quantità che andavano dai 100 ai 250 grammi per volta. Poi la droga veniva ceduta a pusceri italiani che a loro volta assoldavano anche minori e che avrebbero preteso da un commerciante che consentisse la vendita in un negozio. In un caso, accertato anche dalle indagini, una donna tossicodipendente ha dovuto persino vendere il suo appartamento per pagare il debito accumulato per acquistare le dosi. L'indagine è iniziata nell'ottobre del 2015 con i primi 150 grammi di cocaina sequestrati ed è poi proseguita con altri sequestri fino a quello da 1,6 kg effettuato a Rimini nel novembre dello scorso anno.